Buongiorno da Spa Kitchen, questa volta siamo all'aperto in un posto meraviglioso in Sicilia, B&B Casa Puccio dei miei genitori. La bellezza di questo posto è che si può cucinare all'aperto. Oggi faremo una pasta estiva con un sugo freddo per non rinunciare alla pasta anche d'estate quando fa molto caldo soprattutto in Sicilia. Adesso la prepariamo insieme e andiamo agli ingredienti. Utilizzeremo i pelati o la polpa di pomodoro, la pasta lunga e abbiamo scelto le fettuccine, qualche spicchio d'aglio, sale, olio, una ciotola, una pentola per la pasta e alla fine una spuzzata di pecorino. Grazie a tutti. Ma voi direte, con tutti i pomodori, esempio questo spettacolo siciliano dell'orto di papà, con tutti i pomodori che abbiamo freschi, perché fare la pasta col pelato? Perché il pelato ce l'abbiamo tutti in casa, è più comodo, ma chi volesse fare la pasta con il pomodoro fresco può provare. Ed eccoci con la nostra pasta fresca, con il pomodoro a freddo senza cottura, quindi utilizzate solo una pentola e adesso manca però qualcosa. Manca il basilico che il mio amore cameraman adesso andrà a prendere. Visita in giardino. Che bel basilico! Un fiore per il nostro piatto. Dalla regia mi dicono pasta alla carrettiera. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!